ciao a tutti ragazzi bentrovati sul mio canale oggi parliamo velocemente il più velocemente possibile di 7 night 2 questo gioco che dal day one ragazzi è passato un anno molti di voi mi hanno chiesto vale la pena iniziare cosa c'è da fare è un gioco che alla lunga continua ad avere una longevità una storia come il pvm avete fatto un sacco di domande su questo gioco il gioco è molto 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 longevo ragazzi la storia viene continuamente aggiornata i personaggi di volta in volta vengono inseriti all'interno di un sistema gaccia ok che dove potete pullare sia con i ticket sia con le gemme o addirittura con queste io le chiamo uova ok queste sfere dove potete scegliere il personaggio leggendario plus che più di cui avete più bisogno avete le pullate per i gioielli per gli equipaggiamenti anche per i pet leggendari e leggendari plus nel gioco nel gioco noi troviamo vi faccio vedere un attimo velocemente spostiamo un attimo la mia cam ok mettiamo qua in basso che va benissimo lì noi abbiamo l'arena un'arena ragazzi che dal mio punto di vista come unica pecca l'arena ha il automatico ovvero voi dovete andare dentro avete 10 attacchi ogni due ore e avete il rank fino a rango 1 di 6.900 punti non è facile arrivarci alcuni del mio clan sono riusciti ad arrivare a 6.000 il gioco per chi inizia ripeto non è punitivo il gioco vi da riguardate anche l'altro video che ho fatto vi da tanti personaggi leggendari leggendari plus con ticket a scelta quindi vi mette già sulla strada buona ok ed è siamo solo al primo anniversario e arriverà molto probabilmente qualche evento se non ricordo male il 21 per l'anniversa per l'evento di natale barra anniversario natale perché è un anniversario che viene suddiviso in diverse fasi la prima fase è già passata adesso la seconda fase sarà su natale abbiamo l'arena normale l'arena scontro continuo dove abbiamo tre attacchi al giorno non di più anche lì serve per trovare degli item abbiamo l'esplorazione dei campi che ci permette di mappa in mappa di trovare i vari item l'esplorazione dei campi la cosa positiva è che hanno inserito la modalità automatica nel senso che quando noi andiamo offline ovvero chiudiamo il gioco lo spegniamo andiamo a dormire eccetera eccetera o dobbiamo andare al lavoro non possiamo stare comunque collegati con il gioco noi spegniamo il gioco quando ritorniamo in game il gioco farma in automatico su quel campo fino a otto ore scusate fino a dieci ore anzi perché erano era da otto adesso hanno spostato a dieci io vi consiglio di soffermarvi su questo campo foresta delle illusioni ok la zona settentrionale per questo item ok non sono solo orecchini vi darà potrà darvi anche la collana o l'anello questo a parer mio è uno degli item migliori che c'è nel gioco oltre a soborghi qua oltre a questo orecchino collana e anello della per poter resuscitare quindi quando vuole il vostro personaggio e ritorna in vita poi abbiamo i dungeon per poter farmare loro per poter farmare le shard per poter poter prendere le shard dei personaggi per poterli livellare il esir è il tempio unico per poter potenziare i personaggi la corsa dell'esperienza vi darà delle boccette per l'ex vi faccio vedere dove si trovano le shard dei personaggi andando in shop da alice in negozio in generale se scorriamo verso il fondo noi troviamo pietra dell'anima che adesso è leggermente coperta dalla mia telecamera ma sta praticamente qua ci sono tutte le shard dei personaggi troviamo le shard dei personaggi comuni non comuni dei personaggi blu che sono rari e dei personaggi leggendari ragazzi quando troviamo i personaggi leggendari vedete i leggendari normali ne possiamo trovare possiamo prendere due shard tutti i giorni quando ci sono i personaggi leggendari plus ne possiamo prendere possiamo riscattare solo uno al giorno il costo è uguale ma ne possiamo riscattare semplicemente uno in meno invece per i personaggi mystical come in questo caso ace che hanno impan inserito ragazzi non è mai uscito un personaggio mystical ace è la prima volta che lo inseriscono ci serviranno queste gemme ok che tutte le settimane il gioco ce ne darà 100 ovviamente in base a alla potenza della gilda in base a quanto si classifica la gilda nel rank dovrebbe darle il mercoledì o mercoledì adesso non mi ricordo ragazzi di preciso con i punti dell'amicizia cosa possiamo comprare mappe mappe a volontà ragazzi quando avrete tanti tanti punti dell'amicizia potrete pensare a iniziare a comprare i ticket per fare i dungeon tutto il resto io sinceramente ragazzi ve lo sconsiglio anche se proprio vi dovessero servire queste pietre nel proprio nel caso proprio che siete proprio me ne serve una rondetta però ve lo sconsiglio cioè preferito io vi consiglio di prendere piuttosto questo che vi dà la possibilità di prendere le shard dei personaggi abbiamo il labirinto per il momento state buoni state tranquilli io punterei tutto su queste ragazzi perché poi vi servirà per pullare poi il personaggio leggendario plus con l'arena le mappe tutta la vita le mappe ragazzi poi dopo gli item tutto il resto non serve assolutamente a nulla ok con i punti gilda ok cosa possiamo prendere possiamo riscattare forziere iori tutto loro che potete recuperare in giro ragazzi recuperatelo perché serve tantissimo poi il resto le mappe vedete io non prendo nient'altro di tutto il resto non prendo nient'altro perché soprattutto all'inizio potenziale e portare sui personaggi diventa molto dispendioso a livello di coin nella mappa comune invece con i soldi cosa andiamo a comprare io consiglio di comprare le mappe perché quando arriviamo al massimo di mappe cioè 16 giornalieri spendiamo 32 mila 32 mila in sto gioco non sono praticamente nulla ok è vero che adesso vado a zero ma prendendo tre bauli dovrei arrivare a 4 500 mila di oro quindi è una bella una bella cifra con il topazio l'unica cosa che io vi consiglio di prendere con il topazio è vero che qua ci sono un sacco di cose che vi possono far gola e potrete dire potreste dire ma io con queste cose mi ci potenzi personaggi no ragazzi io vi consiglio di arrivare a 11k 11 mila per poter prendere un ticket che vi permette di fare una pullata multipla ok ma non sul banner normale ma sul banner quello che vi costa le uova ok per prendere il personaggio l'eroe leggendario plus a scelta ok quindi ve lo straconsiglio poi una volta che avete preso il personaggio l'eroe leggendario plus che cercavate poi allora potete dedicarvi magari a recuperare un po di item per potenziare tutto il resto del team però sinceramente conservate tutte le risorse ragazzi fin quando non vi sono proprio estremamente utili che ne avete proprio bisogno perché il gioco da questo punto di vista è vero che da tanto ma vi fa anche consumare tanto ok anche per quanto riguarda quando i pacchetti per esempio pacchetto evento tutti i giorni tutti i giorni lo sta eccolo qua tutti i giorni il mensile qua vi da quello gratuito il settimanale le 20 no scusatemi dove è finito comunque dovrebbe essere qua vi da anche quello giornaliero si vede che me l'ha tolto una volta che l'ho riscattato vi da tutti i giorni un pacchetto con un po di risorse da che vi serviranno poi per pullare expare eccetera eccetera apriamo due pauli due pauli dell'oro vediamo 400 mila avete visto quindi comunque di soldi il gioco ne da l'unica cosa che poi per potenziare i personaggi ne chiede altrettanti abbiamo detto quindi i dungeon i ride ragazzi sono ride con i vari boss che già non incontreremo all'interno della storia gigantus è uno dei primi boss che incontriamo quando andremo a fare il suo ride possiamo ottenere vedete l'arma il set di armatura questo tipo di item con l'aumento della velocità di recupero fornita è nuovo per le pullate oltre a questi libri che poi ci serviranno per potenziare le formazioni che andremo a parlare tra poco l'esodo dell'alba stessa cosa troviamo altri item e altri libri la regina altri item altri libri ogni ride ha il suo il suo armamentario con item libri le uova ci sono sempre ok ovviamente troviamo ai primi livelli troviamo le armi armature verdi più avanti troviamo quelle blu successivamente troviamo quelle leggendarie ok poi ci spostiamo ride da otto giocatori da otto giocatori come nei ride da quattro cosa abbiamo abbiamo invece di avere quattro eroi che attaccano abbiamo una formazione da otto ok e abbiamo altri boss da affrontare con altri item a disposizione la faida è la stessa identica cosa con ride da otto ok e le terre infernali idem compatate ok sono sempre ride da otto con la possibilità di ottenere arma armatura item e item risorsa e libro la risorsa cos'è serve per andare a craftare arma armatura o oggetto del personaggio che si vuole ottenere poi ci abbiamo il dungeon giornaliero ragazzi che ho visti consiglio di fare due sono la prima è tentativo gratuito tutti i giorni e la seconda ti da la ricompensa aggiuntiva al dungeon si entra nel dungeon e purtroppo bisogna aspettare altre tre persone ma la cosa positiva cosa cosa ha fatto il gioco il gioco io questo l'ho lasciato così vi facevo vedere crea un gruppo il gioco vi permette da questo momento in poi di aggiungere la IA intelligenza artificiale non avete nessuno che può partecipare in quel momento e dopo voi non avete altre persone con cui partecipare no butta fuori butta fuori butta fuori ok ok il gioco prende e vi fa giocare con il team con la IA artificiale può essere buono può essere negativo ragazzi i primi due livelli riuscite a farlo con la IA artificiale dal terzo al quarto io ve lo strass consiglio perché i nemici non schivano i colpi cioè i tuoi alleati non schivano i colpi dei nemici e quindi pigliano certe centri in faccia che la metà bastano abbiamo la tower per chi conosce la tipologia per ogni livello della tower noi riscattiamo oro ricompense mappe topazzi item per craftare altri oggetti eccetera eccetera e possiamo trovare anche vedete ticket eroe leggendario ok evo con eroe leggendario casuale quindi noi dentro i ticket troviamo questi casualmente ci dà uno di questi personaggi e rubini per poi andare a pullare ovviamente sul sul banner che ci interessa abbiamo il campo il ricordo dell'eroe per ora non ci sono tutti gli eroi ragazzi c'è mercurin kyler ruri e spada jave eccetera eccetera ogni eroe ha una ventina di ricordi chi ne ha 20 chi ne ha 21 ok mercurin a 15 ogni ricordo che noi sblocchiamo gli sblocchiamo pozioni per l'esperienza per aumentare il livello del personaggio gli elisir e sblocchiamo anche il pietre di potenziamento degli equipaggiamenti e soldi ragazzi io lo straconsiglio di fare fino al 10 ci arrivate tranquilli perché se iniziate adesso a giocare a 7 night 2 veramente il gioco vi dà dei personaggi straforti e 2 verità già a livello 60 ragazzi e avere due personaggi a livello 60 che il cap attuale del gioco è veramente tanta roba tanta roba io al day one e anche i miei amici che stanno giocando con me dal day one non hanno personaggi a livello 60 ok il gioco è iniziato a tagli a dagli adesso anche a loro i personaggi a livello 60 e ok capite cosa vuol dire avere un gioco che vi dà già la possibilità di avere un team meta per il pvp è un team ottimale per il pv e col anello del fatto abbiamo fatto che sono le missioni di ace ma a livello 5 purtroppo vi bloccate fino al 4 voi andate tranquilli ma a livello 5 il gioco decide che la potenza dell'avversario è di 240 io al momento sono a 148 magari togliendo ring e inserendo ace non lo so potrei arrivare a 150 160 massimo ma per poter affrontare il boss a parer mio dal danno che ho ricevuto l'altra volta che ho provato bisogna essere minimo minimo a 200 k se no non si riesce ad andare avanti quindi per il momento accantonato non è un evento a tempo ok questi non sono eventi a tempo quindi potete farlo veramente con tutta la calma di questo mondo poi abbiamo il labirinto delle prove che è un evento settimanale come potete vedere fino a livello 5 livello vi da tanta tanta roba il problema è che sono dei dei livelli veramente tosti da affrontare soprattutto se iniziate adesso io con il team al 140 150 sono riuscito a fare pelo pelo il 3 il 4 ragazzi ci ho provato mi hanno asfaltato una roba difficilissima poi c'è la fascia 2 che diventerà ancora più ostico fino ad arrivare alla fascia 3 che bisognerà piangere non so forse in quale lingua strana arcaica eccetera eccetera abbiamo la guerra di gilda con tutte le persone dove possiamo vedere abbiamo tre attacchi a testa vi faccio vedere il team è composto da barricata frontale dalle torri laterali e della torre del re quindi si fa il posizionamento si mettono nelle barricate le persone con il grado più alto in modo tale che qualora dovesse esserci un attacco i più piccoli vengono sacrificati ok quindi subiscono il danno più grosso mentre quelli più resistenti che stanno a capo delle barricate della torre o della torre del re a inchiarle in 330k finchia ragazzi ok fortissimo e sarà lì a tancare e a resistere in modo tale da riuscire a contrastare gli attacchi di uno o più avversari dopo della guerra di gilda abbiamo anche i raid di gilda ragazzi sono tre attacchi e abbiamo due tipologie di ricompense la ricompensa personale che è basata su oro rubini e topazio oltre che sulle monete onore e poi più punti facciamo tutta la gilda insieme più ricompense sblocchiamo queste ragazzi sono stra mega stra mega utili servono tantissimo ok quindi qualora voi voleste partecipare io vi dico che questo dobbiamo fare assolutamente tutti insieme questo ok modalità sfida è un team da quattro con il pet bisogna affrontare un drago di tipo fulmine un drago di tipo caos e un drago di tipo silenzio ogni drago ha la sua formazione in che senso se noi utilizziamo questo team questi personaggi vogliamo utilizzare karin ok sul drago fulmine noi karin poi non potremmo utilizzarla sul caos e nemmeno sul drago del silenzio quindi ci sono dei team che sono più propensi per poter affrontare determinate situazioni come facciamo a sapere quali team dobbiamo utilizzare o si parla con i ragazzi della gilda si chiedono informazioni eccetera oppure si può andare a guardare nelle statistiche d'uso le statistiche d'uso ragazzi in base a la tipologia di evento che volete affrontare vi da la soluzione migliore o ipoteticamente migliore ok quindi nell'arena la formazione migliore che tutti consigliano tutti il 15,58 per cento consiglia e questa è i split platin rin teo con elin con la formazione bombardamento 2 poi dopo seguono tutti gli altri le guerre di gilda la cripta dell'oro per poter farmare l'oro quindi questo il dungeon poi abbiamo il raid a quattro giocatori quindi gigantus con i vari boss gigantus il corazzato la regina col veleno con gian obbligatorio e quindi voi da qui capite tante 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 cose ok fino ad avere i tre draghi la folgore il caos e il silenzio con le formazioni migliori quelle che tutti utilizzano o che comunque bene o male consigliano cos'altro c'è da dire sul gioco non sapete magari che cosa quale equipaggiamento vuole rachel ok basta che cercate dov'è rachel cerchiamola andiamo sul giardino del silenzio troviamo rachel ci clicchiamo sopra e il gioco vi dice anche che la formazione l'equipaggiamento migliore per rachel è full attacco con immortalità scusate revive e il voto erculeo ok quello che aumenta l'attacco oppure il 16 per cento dice con aumenta il livello di tutte le abilità quindi se voi avete rachel a livello massimo 60 le abilità sono al livello 13 avete l'abilità a livello 19 quindi vuol dire ragazzi fa molto 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 più danno e ovviamente con le abilità più alte di livello cosa servirà ti servirà ogni attacco base quindi gli attacchi quelli semplici riduce il tempo il tempo di ricarica delle abilità di un secondo noi ce l'abbiamo ok quindi ogni volta che l'attacco attacca un secondo 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 e abbiamo le abilità che poi riesce a spammare più velocemente e più forti del normale la stessa cosa per ogni personaggio vedete lui a del vuole il critico andiamo per esempio su lina lei vuole la riduce la ricarica delle abilità insomma c'è tutte le informazioni possibili immaginabili qua sopra oltre a questo cosa possiamo vedere cosa dobbiamo fare molti di voi mi hanno detto ma noi cosa dobbiamo fare nel gioco cosa non dobbiamo cercare di perdere mai di vista ragazzi sono due cose non dovete mai perdere di vista e sono qua ok abbiamo le missioni giornaliere le emissioni mensili ok e abbiamo gli obiettivi gli obiettivi li trovate all'interno della storia che sono veramente semplici tipo capitolo 2 normale attivare il dispositivo capitolo 2 normale completa con due o più eroi a distanza in squadra quindi con due che sparano a distanza e poi due tank leader con quello che volete quindi lui invece questo vuole a del sangue reale in squadra quindi quando sbloccate poi queste che sono veramente delle stupidaggini basta fare poi su vai e vi da già la quale la mappa già vita vi porta su sull'obiettivo non dovete nemmeno stare a scorrere cercare mio dio dove impostare la mappa vi porta già vi setta già lui tutto come dovete fare fate come sbloccate vede sono 15 rubini a botta che per tutti quelli che io ancora devo fare perché non ho sbloccato tutto ok mi sono arrivato al capitolo sbloccato sul capitolo difficile e devo rifare tutto quanto sbloccando queste varie faccende ragazzi sono tanti 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 rubini e poi ogni volta che voi sbloccate il trofeo quindi quando arriverò a 300 vedete una stella arrivo 183 3 stelle arrivo a 183 386 fino ad arrivare a 300 quando arrivo a 300 me ne danno a 1300 dopo i 300 ci sarà non so 400 500 e vi darà altri rubini quindi questa è un'altra cosa che dovete tenere d'occhio e in più ci sono gli eventi ragazzi gli eventi che cambiano ok può essere che cambino anche settimanalmente questo è la ricompensa giornaliera ricompensa giornaliera il primo giorno della settimana tendenzialmente prendetelo con le pinze vi da iori poi le pozioni dell'ex vi da tante altre cose e in più alla fine il ventottesimo giorno vi darà un eroe leggendario un eroe leggendario casuale dalla lista quindi purtroppo ragazzi non è a scelta però tra questi non si sa mai che vi va di fortuna e quindi vi capita il personaggio che vi serve oppure vi da un doppione e vi da delle shard per potenziare quelli che già avete quindi in un modo o nell'altro non va mai male accesso speciale festeggiamento del primo anniversario ragazzi siamo al primo anniversario quindi tutti coloro i quali accedono avranno questo anniversario voi accedete adesso dall'uno fino a altri 28 giorni non vi scade tra tre giorni ok si è chiaro il primo giorno voi avete un'evocazione eroe leggendario casuale poi il quarto giorno un'armatura leggendaria plus ok quindi andate su dettagli potete scegliere quale tipo di armatura volete se volete la corazza l'elmo eccetera eccetera il settimo giorno arma leggendaria sempre selezionata l'eroe leggendario quasi può selezionare possiamo scegliere quale eroe leggendario vogliamo il famiglio casuale ok sempre leggendario un altro eroe leggendario a scelta un altro famiglio leggendario casuale un altro eroe leggendario a scelta ottenuto io oggi e tra tre giorni possiamo ottenere potrò ottenere scusate potrò ottenere la selezione di un famiglio leggendario a scelta ragazzi se mi chiedete quale famiglio io vi consiglio ragazzi io vi consiglio lei yoni oppure karin ragazzi karine è più difensiva yoni è più improntata all'attacco ok quindi quando trovate l'eroe il pet il famiglio a scelta io vi consiglio loro due o yoni o karin molti magari vi potranno dire il in non lo so io consiglio loro due ok perché sono universali perché le potete utilizzare sia per il pwe che per il pvp ok anche lei potete utilizzarla per il pwe invece gli altri magari sono più improntati o solo per il pwe o solo per il pvp invece karin e yoni sono non voglio dire generiche perché brutto di generiche però sono so straforti in entrambi i casi avrete la possibilità di ottenere questo personaggio leggendario a livello massimo a livello 60 perché il gioco per 14 giorni quindi per due settimane per due settimane vi darà le sue shard ok 10 20 30 30 di nuovo 40 40 e 50 in modo tale da portarlo a poterlo massimizzare ci sarà questo evento che scade no niente ragazzi scade domani non riuscirete ad ottenere questo evento vi darà la possibilità la possibilità di avere la skin di re c'è il blu con le ali di fiamma però bisogna fare 500 arene e non riuscite a sicuramente a farle 500 arene io ci ho messo diversi giorni l'evento ecco per esempio quando ci sono gli eventi tipo potenzia il personaggio climate climate va pullato se voi non lo avete ovviamente tutte queste risorse non potrete ottenerle e tendenzialmente questi sono eventi per le whale ok per chi ci spende tanti soldi allora si beccano delle ricompense extra perché hanno scioppato è un gioco free to play ragazzi non state dietro a chi dice che è un gioco pay to win anzi è un gioco è uno dei pochi giochi che vi permette che vi dà la possibilità di livellare di farmare di veramente di giocarlo c'è portate pazienza ok con tutta la calma e vi dà le risorse necessarie personaggi gli equipaggiamenti tutto il resto in modo tale da non rimanere mai indietro ovviamente le web saranno sempre più forti ma le quelle in tutti i giochi sono più forti perché comunque ci spendono ci spendono ci spendono veramente troppo veramente tanto però noi da free to play comunque riusciamo a competere riusciamo a essere a un buon livello di competitivo ecco l'evento della festa evocazioni di dicembre più evocate più cose vi dà ma è una cosa passabile ok lasciate perdere che io sono arrivato a 160 ma sono arrivato a 160 perché sono andato a pullare su mystical ace e poi non ci sono più eventi perché perché appunto il 20 finiscono è il 21 finiscono i eventi l'ultimo giorno è il 21 dal 22 arriveranno gli eventi nuovi ragazzi che altro dire ci sono diverse tipologie di potenziamento c'è l'impostazione della squadra all'interno del gioco con gli eroi il la tipologia di famiglio quelli che voi avete sbloccato più quelli che non sono stati sbloccati c'è la formazione quante tipo di formazione abbiamo guardate sono veramente tantissime e in più si possono potenziare basta fare potenziamento formazione a me mancano dei libri rossi e questo non lo posso portare a 8 però per esempio volendo possiamo questo lo possiamo portare sopra la mia preferita è bombardamento 2 abbiamo le abilità dei personaggi ogni personaggio ha le sue abilità che crescono di cinque livelli alla volta ovvero adel dal livello 30 al livello 35 sblocca un livello in più di abilità che dobbiamo essere noi poi dopo ad andare a potenziare il gioco non le potenzia in automatico ok quindi adesso quando farò il livello 35 sbloccherò il livello 7 e devo tornare qua a potenziare tutti i vari livelli nel potenziale abbiamo la possibilità di potenziare le statistiche di attacco difesa di punti vita del nostro personaggio attraverso gli elisir ok i bianchi servono per la prima fase vediamo ok per la prima fase per la seconda fase servono quelli verdi e per la terza fase vediamo segno 1 ok per la terza fase vedete mi servono quelli blu dalla terza fase in poi invece mi servono quelli rossi quindi anche lì non vuol dire che bisogna andare nel dungeon e farmare sempre il dungeon di livello 10 ma ci toccherà anche tornare indietro a farmare il dungeon di livello 5 o di livello 7 il livello 5 ci dà quelle bianche e quelle verdi quello di livello 7 ci dà quelle verdi e quelle blu quello di livello 10 ci dà quelle rosse ragazzi semplice ok in più abbiamo le divinità un altro tipo di potenziamento dove vi consiglio di concentrarvi principalmente sul primo ok io potenzio ho iniziato a potenziare anche il secondo il terzo e il quarto ma come vedete soltanto per avere il livello 1 giusto per avere un minimo di potenziamento di accendo di potenziamento su tutte le varie abilità ma quello il livello più importante c'è lo stadio più importante secondo me e secondo anche molte altre persone rimane il primo perché parliamo di attacco di difesa di aumento del danno di combo dei punti vita ok quindi sono praticamente le statistiche principali di del gioco abbiamo le maestrie che vanno cambiate in base all'esigenza della mappa e le maestrie si sbloccano in base al livello dell'account io sono a livello 70 e lo sbloccate fino qui dal livello 70 in poi devo fare 75 80 ogni 5 livelli oppure le posso comprare con i rubini a inizio game si diceva arrivi a livello 40 e poi te le compri tutti con i rubini ok ragazzi è una stronzata non fatelo ok livellate tranquillamente poco alla volta step by step quando arriverete al livello 90 lì potete iniziare a pensare a comprare 95 100 fino ad arrivare a 120 mi pare 150 l'hanno portato a 150 se proprio perché la poi dopo inizia a diventare lento il farming ma come potete vedere parliamo di 11.000 da 145 a 140 11.000 10.500 10.000 cioè parliamo di tanti tanti rubini e abbiamo faccio vedere velocemente i famigli quelli che ancora non abbiamo sbloccato sono questi sono i famigli leggendari plus questi sono i leggendari normali abbiamo quelli rari con fondi possiamo fondere faccio vedere per esempio i gioielli noi li fondiamo otteniamo a random totalmente randomico otteniamo verdi quelli blu per poi ottenere quelli rossi la stessa cosa possiamo fare con i personaggi comuni quelli bianchi per ottenere fino a ottenere poi quelli leggendari e la fusione dei dei pet anche lì per poi ottenere magari un pet leggendario io personalmente ragazzi qua vi consiglio di essere molto cauti di non puntare fondo tutto perché voglio il pet leggendario l'eroe leggendario ma ragazzi andateci veramente quei piedi di piombo perché possono anche arrivare le shard e non il personaggio quindi non è tutto oro ciò che luccica ecco insomma e in più abbiamo la creazione noi possiamo trattarci a qui per esempio non ho abbastanza soldi però in realtà potremmo cartarci l'arma leggendaria o a random abbiamo l'80 per cento che la esca l'arma leggendaria normale o il 20 per cento di super successo per ottenere l'arma l'armatura o per esempio l'oggetto leggenda no sempre leggendario però l'armatura può uscire leggendaria plus in più le varie cose tipo le pietre potenziamenti per poter migliorare gli accessori per poter passare dall'oggetto blu all'oggetto leggendario non lo fate mai perché queste le essenze creme si servono veramente tantissimo più c'è sempre la missione dell'evento ok dove fin quando non scade noi possiamo fare in questo caso il fiore della neve a me l'unica cosa l'ultima cosa che mi rimane da recuperare ecco con fiore della neve quando arriverò a 2500 posso prendere un'arma leggendaria casuale ok quindi una volta arrivo a 2500 ho sbloccato tutto e mi sono tolto il il pensiero ragazzi io è stato un video lunghissimo lo so è un video lunghissimo ma di cose ce ne sono veramente tantissime da dire che altro posso fare che altro posso dirvi spero di sentirvi su discord su di vedervi in live su twitch ragazzi se vi piace il gioco veramente provatelo se avete problemi difficoltà contattatemi sono a disposizione veramente tutti i giorni anche sabato e domenica ditemi 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 la vostra ragazzi spero di vederci presto un abbraccio e buona continuazione a tutti ciao